è un miracolo l'iniziazione era un tal miracolo per comprenderla bisognava aver risvegliato in sé le forze necessarie per affermarsi sui piani di vita più elevati aveva dovuto prepararsi alla suprema esperienza con un genere di vita speciale che questi avvenimenti prendano la forma tale o tal'altra e si riconducono comunque a tappe prefisse la vita di un iniziato dunque è una vita tipica si può descrivere questa vita indipendentemente da una personalità particolare o piuttosto un individuo non sarà sulla via del divino se non sarà passato per questi tipici avvenimenti una tale personalità è buddha tra i suoi discepoli uguale appare gesù ai suoi seguaci il parallelismo che esiste tra la vita di buddha e quella del cristo è evidente e a tal proposito poi leggerò alla termine di questo testo buddha e cristo di cittaino la nascita di buddha viene annunciata da un elefante bianco che discendendo dal cielo si posa sulla regina maya questo presagio significa che maya metterà al mondo un uomo divino uomo divino che condurrà tutti gli esseri all'amore e all'amicizia unendoli con uno stretto legame nel vangelo di luca di san luca si legge dio mandò all'angelo gabriele ad una vergine sposata ad un uomo il cui nome era giuseppe della casa di davide e il nome della vergine era maria e l'angelo entrato da lei disse ben ti sta o favorita il signore sia con te benedetta sia tu fra le donne ed ecco tu concepirai nel ventre e partorirai un figlio e gli darai il nome di gesù esso sarà grande e sarà chiamato figlio dell'altissimo i bramini i sacerdoti dell'india che sapevano cosa significhi la nascita di un buddha interpretano il sogno di maya essi hanno un'idea tipica di un buddha bisogna che la personalità particolare dell'ultimo buddha risponda a questa idea preconcetta così si legge anche in san matteo erode radunati tutti i principali sacerdoti e gli iscriva del popolo si informò da loro dove il cristo doveva nascere il bramino asita dice di buddha questo è il fanciullo che diventerà il buddha il salvatore la guida all'immortalità per la libertà e la luce si confronti con questo episodio della storia di buddha l'episodio evangelico e si vedrà la corrispondenza ora ecco vi era in gerusalemmo un uomo il cui nome era simeone e quell'uomo era giusto e religioso e aspettava la consolazione di israele e lo spirito santo era sopra di lui e come il padre la madre portavano nel tempio il fanciullo gesù per far di lui secondo l'usanza della legge egli se lo ricò nelle braccia e benedisse dio e disse signore ora ne mandi mi mandi il tuo servitore in pace secondo la tua parola poscia che gli occhi miei hanno veduto la tua salute la quale tua è preparata per metterla davanti a tutti i popoli luce da illuminare le genti e la gloria del tuo popolo di israele si racconta che buddha all'età di 12 anni si perse si smarrì e fu ritrovato sotto un albero circondato da cantori e savi dell'antichità che egli istruiva a questo racconto corrisponde il passaggio seguente di san luca ora suo padre e sua madre andavano ogni anno a gerusalemme durante la festa di pasqua e come egli fu d'età di 12 anni essendo essi saliti in gerusalemme secondo l'usanza della festa e avendo compiuti i giorni di essa quando se ne tornavano il fanciullo gesù rimase lì all'insaputa di giuseppe e della madre estimando che lì fosse tra la compagnia camminarono una giornata e allora si misero a cercarlo fra i parenti fra i conoscenti e non avendolo trovato tornarono a gerusalemme cercandolo e avvenne che tre giorni dopo lo trovarono nel tempio che sedeva in mezzo ai dottori li ascoltava e faceva loro delle domande e tutti coloro che odivano si stupivano del suo senno e delle sue risposte dopo aver vissuto nella solitudine tornato fra gli uomini buddha è accolto dal saluto di una vergine beata tua madre beato tuo padre beata la sposa a cui appartieni ed egli risponde beati sono coloro soltanto che sono nel nirvana cioè coloro che sono entrati nell'ordine eterno dell'universo in luca si legge ora avvenne che mentre egli diceva queste cose una donna della moltitudine alzò la voce e disse beato il ventre che ti portò le mammelle che ti hanno allattato ma egli disse anzi beati coloro che odono la parola di dio e lo servano nel corso dell'iniziazione di buddha il tentatore mara lo spirito maligno li si avvicina e gli promette tutti i regni della terra ma buttano allontana dicendo io so che un regno mi è destinato ma non reclamo alcun regno di questo mondo diventerò un buddha e tutti i regni del mondo canteranno alleluia allora il tentatore esclama il mio regno è finito allorché satana promette a gesù tutti i regni della terra se egli si prostri davanti a lui ricordiamo che gesù rispose allontanati da me satana poiché è scritto tu adorerai il signore dio tuo e non avrai altro signore e l'evangelista soggiunge allora il diavolo lo lasciò era matteo all'ultima parte